Ciao amici, ciao amiche e come promesso vi voglio rispondere a tutte le vostre domande, le domande che mi sono state fatte l'altra volta e anche le domande di questa volta. Sono domande un po' diciamo anche imbarazzanti perché mi hanno chiesto questo discorso della mia scelta di non avere rapporti sessuali con nessuno. Se avesse un motivo per dirlo ce l'avrebbe spiegato, ma io l'ho spiegato in qualche video precedente. Io ho rinunciato a tutti i miei risparmi di una vita per aiutare il prossimo, quindi non sono in cerca di denaro. Tra l'altro credo di averlo dimostrato, tutte le volte che qualcuno ha cercato di farmi una donazione ho detto no, assolutamente no. E questo ha un motivo e credo che qualcuno di voi l'abbia capito. Nel momento che io accettassi denaro purtroppo sarei diciamo sullo stesso livello delle altre religioni piuttosto mercenarie perché praticamente di amore hanno ben poco, hanno molti dogmi, hanno insegnamenti e spiegazioni zero e raccolgono un sacco di soldi che poi tra l'altro questi soldi non è che vanno in beneficenza. quindi voglio dire per questo io essendo diverso da loro la mia è una vera istituzione di insegnamento quindi non raccolgo soldi. Io ho rinunciato, anzi io gli ho dati i miei soldi per aiutare le persone, tantissime persone. Poi un'altra cosa, come io sto insegnando la sessualità, avevo cominciato poi interrotto, stavo spiegando la sessualità. Allora primo i soldi non mi interessano, secondo la sessualità non mi interessa. Come faccio a dimostrare che non mi interessa la sessualità? non avendo rapporti sessuali con nessuno. Perché sennò, come hanno fatto anche alcuni maestri spirituali, come Osho per esempio, che si ha insegnato delle cose belle, però ha raccolto una quantità di soldi pazzesca. E ha insegnato anche la sessualità, però faceva sesso con un sacco di donne proprio, capito? Voglio dire, io non voglio essere come loro, capisci? Io vorrei essere puro, vorrei essere un vero maestro spirituale. Per questo io ho rinunciato più di vent'anni fa, intorno al 98-99-2000, ho rinunciato ad accumulare soldi e ho rinunciato a fare sesso. È una scelta degna di un maestro spirituale. Voi non dovete fare come me, non dovete essere generosi, dare soldi o rinunciare alla sessualità. Io ho scelto questa via per essere credibile, per non essere accusato, diciamo, ma tu spieghi la sessualità perché poi tu ne trai profitto perché con la scusa che insegni questo, poi fai sesso con un sacco di ragazze, donne. No, 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 io ripeto, dalla fine del millennio passato non ho fatto più sesso con nessuno. Poi qualcuno ha domandato, vabbè ma tua moglie come la vede sta cosa? Beh, con mia moglie c'è stato un inteso, un accordo, come posso dire, lei ha compreso la mia situazione e ha detto, vabbè non c'è problema. Cioè mia moglie è d'accordo, cioè non è una prepotenza che potrei spiegare più dettagliatamente tutto quello che è successo, ma tanto io lo so che non mi darete pace finché non spiegherò tutto. Quindi allora, spiegando, abbiamo cercato di avere figli, ci abbiamo provato fino alla fine del millennio scorso, quasi alla fine del millennio scorso. E come questa cosa di avere figli era diventata pesante perché lei li voleva questi figli. Io che guardavo le cose con una certa lungimiranza, no? Per esempio guardando i giorni d'oggi che stiamo in forte pericolo di una guerra nucleare, nucleare. Abbiamo crisi economiche pazzesche, grosse difficoltà di arrivare alla fine del mese, grosse difficoltà, persino ad avere i riscaldamenti perché con le tensioni internazionali, insomma, io avevo previsto che ci sarebbe stato un momento molto critico, molto difficile, ho pensato, beh, io prima di fare figli ci penserei due volte, però, insomma, abbiamo comunque provato ad avere questi figli, eccetera, eccetera, non sono venuti. Allora, a quel punto il sesso era diventato quasi un obbligo, quasi una... non c'era più la gioia, il piacere, quindi abbiamo lasciato perdere. E io vi ho spiegato anche che, visto che dovevo iniziare un'opera molto importante, dove dovevo dare dimostrazione, perché tanto poi la gente va a vedere quello che fai, dovevo dare dimostrazione di autentica spiritualità e quindi di rinuncia come tradizione, ma non perché seguo i concetti cattolici, è assolutamente un discorso completamente diverso, proprio per essere credibile, io non mi interesso per i soldi e non mi interesso per il sesso, cioè sono argomenti per me superati, superati, poi magari se volete faccio un video, vi spiego perché sono argomenti superati, ok? Comunque mia moglie è tranquillissima, perché neanche lei voleva fare sesso, perché gli ricordava il fracasso di non riuscire a fare figli, eccetera, eccetera, ma insomma non mi fate parlare troppo di cose private, insomma io adesso vi ho risposto, perché sennò sembra che non voglio rispondere, beh allora ritornando a qualcosa di importante, poi riprenderò i miei insegnamenti sulla sessualità che ho sospeso, ho cominciato, poi li ho sospesi, e tornando invece a quello che mi è stato domandato anche in relazione alla religione, perché alcune persone mi hanno detto, ah ma io non riesco a fare parte della tua religione, infatti io avevo anche tolto il diplomino da riempire, l'avevo tolto perché ho voluto rendere un pochino difficile questa cosa di iscriversi alla mia religione, perché? Perché io lo metto ogni tanto questo diplomino da riempire, potete riempirlo, adesso ve lo rimetterò nel link sotto il video, potete scaricarlo, riempirlo e inviarmelo, o per email, o ancora più pratico, fate la foto e me lo mandate via whatsapp, tanto di gruppi ce ne stanno tanti, magari faccio pure un gruppo specifico, solo per inviare i diplomi della religione, io così poi me li scarico, me li metto tutti in una cartellina, e so quanti sono gli iscritti, chi sono gli iscritti, poi se volete uscire dalla mia religione è facilissimo, strappate il diploma e vi mandate la foto, immediatamente ne siete usciti, ok? Anche se non riuscite a mandarmi la foto, però insomma anche per correttezza è meglio mandarmi la foto, così pure io so chi è uscito, se è possibile, ma se non ci riuscite a mandarmela non fa niente, quindi riempite il diploma quando volete entrare, lo strappate quando volete uscire, questo vi permette di uscire da qualunque religione, perché siamo chiari, la mia è una scuola spirituale, alla quale ho dato legalità, per renderla pari a qualunque religione, ma la mia non è una religione, perché non è fatta di dogmi, non è fatta di credere, non è fatta di imposizioni, io infatti ho scritto questo nuovo diploma, perché mi hanno anche contestato un pochino il fatto, dicendo ma non è chiaro a cosa stiamo aderendo, ma come non è chiaro, ma più chiaro di così, io ho fatto talmente tanti video spiegando in che cosa consiste la mia scuola spirituale che è equiparata a una religione per motivi legali, in modo che potete uscire dalle altre religioni, altrimenti non ci riuscite, è inutile che dici, ma io mi sbattezzo, mi faccio questo, faccio questo, ma non è possibile, l'ho spiegato anche in altri video, puoi uscire da una religione soltanto se ne entri in un'altra, come tutte le religioni sono state create dagli alieni, tranne la mia, io sono terrestre al 100%, allora riuscite a uscire dalle religioni aliene, qua può spiegare anche i fondamenti, poi ve lo leggete, perché poi dovete riempire se volete riempire, però prima leggete, allora praticamente dice qui, allo scopo di una totale chiarezza, il sottoscritto Maurizio Fedeli, fondatore di questa istituzione spirituale, descrive le linee guida che i partecipanti accettano al momento della loro adesione, no perché diciamo, vabbè ma noi che cosa stiamo accettando, ma perché? il Vaticano vi spiega cosa state accettando, no, io sì, io sì, e guarda c'è scritto qua, alla loro adesione accettano di coltivare l'amore universale in se stessi e nelle persone con dolcezza e gentilezza, accettano di pensare con la propria testa ai temi proposti senza preconcetti, accettano di avere una condotta etica basata sul buonsenso e l'amore per tutte le forme di vita, accettano argomentare con gentilezza e chiarezza senza disturbare chi sta cercando di imparare, quattro, sono quattro cose, ok, Gesù ha detto una sola, amore universale, chiaro che questi sono, sono tutti i concetti di amore universale, questi che ho espresso, questi quattro punti, e non chiedo altro, non chiedo altro, capito? Poi spiego che si fa presente che in questa istituzione, visto che in questa istituzione di insegnamento spirituale, è necessario studiare e che gli insegnamenti spirituali fanno parte di una cultura scientifica e razionale chiamata cultura superista, cioè la parte spirituale è soltanto una parte di una cultura che è fatta di ragionamenti, di scienza, conoscenza, capito? Una cultura superista o semplicemente il superismo, il superismo. Qua c'è scritto tutto, c'è scritto tutto, ve lo metto sotto nel link in descrizione, ve lo scaricate, lo leggete, e quelle persone che mi hanno detto ah, non sono riuscito a trovare il diploma, come faccio a partecipare? Ecco come fa a partecipare, così. Perlomeno sai a che cosa stai partecipando, è tutto chiaro, cioè le cose io le ho scritte tutte qui, capito? Le ho scritte tutte qui, queste sono le cose che io vi dico, quando scrivete state accettando queste cose qui, basta, non ne state accettando altre, non è come le altre religioni che è tutto un dogma non vi spiega niente a nessuno, ok? Il discorso che ho registrato dalla religione in Brasile, qualcuno vi dice ah ma io voglio vedere, commento, ma lì che cosa credete che ci sia scritto? C'è scritto che io, Maurizio Fedeli, nella data, ho fondato una religione, che si fonda sul cristianesimo, infatti si chiama Super Cristianesimo Ecumenico Universale, che si fonda sulla persona di Gesù Cristo, però io lo spiego, questo Gesù Cristo, capito? Lo spiego, non è un dogma, io lo spiego perché sto cercando, al contrario di quello che fanno le religioni che si dicono cristiane, io questo Gesù ve lo sto spiegando in un modo molto concreto, logico, razionale, e vi sto spiegando delle cose che invece la Chiesa dice no perché c'è il dogma questo, il dogma quell'altro, no ci devi credere, no io vi dico non dovete credere a niente, dovete solo ragionare da soli, con la vostra testa, uno da uno spunto, cosa fa un insegnante? Da uno spunto, poi se tu che c'hai ragione, non è che l'insegnante può ragionare al posto tuo, io ti do uno spunto, tu c'hai ragione, e basta, semplicissimo, quindi qui non accettate niente, capito? Questa nena cambiale, semplicemente, è una scuola spirituale, se volete ve lo leggo tutto, ma tanto lo potete leggere pure da soli, lo scaricate, comunque va bene, guarda, allora c'è scritto così, diploma di adesione alla scuola spirituale di Maurizio Fedeli, ok? Allora, diploma di adesione alla scuola spirituale di Maurizio Fedeli, registrata legalmente, per poter avere tutti i diritti che hanno le religioni, per poter avere i diritti, capito? Come la libertà di espressione, capito? Non possiamo essere messi a tacere così come se niente fosse. Allora, registrata con il nome di super cristianesimo ecumenico universale, universale perché è cosmico, in tutto l'universo pensano queste cose qui, in tutto l'universo civilizzato pensano queste cose qui. Allora, entrata in questa istituzione di insegnamento spirituale permette automaticamente di sganciarsi totalmente da qualsiasi religione si abbia fatto parte in precedenza. Questa scuola spirituale, detta anche religione superista o cristianesimo cosmico, è l'unica religione terrestre fatta per i terrestri al contrario di tutte le religioni del mondo che sono state fatte da alieni allo scopo di dominare e sottomettere i terrestri. e l'abbiamo visto come stiamo messi. Allo scopo di una totale chiarezza il sottoscritto Maurizio Fedeli, fondatore di questa istituzione spirituale, descrive le linee guida che i partecipanti accettano al momento della loro adesione. coltivare l'amore universale in se stessi e nelle persone con dolcezza e gentilezza. Pensare con la propria testa ai temi proposti senza preconcetti. Avere una condotta etica basata sul buonsenso e l'amore per tutte le forme di vita. argomentare con gentilezza e chiarezza senza disturbare chi sta cercando di imparare. Ok? Sono quattro punti. Basta. Gesù ne ha detto uno solo. L'amore universale. Punto. Però come avete insistito no ma devi essere preciso, più chiaro, non devi essere nel vaso. È solo questo. Solo questi quattro punti qui e basta. Ecco cosa accettate quando dite sto entrando nella tua religione semplicemente riprendo questo modo. Quando vi sto fare strappate, buttate. Se vi riesci mandando la foto bene, se non vi riesci non fa niente. Siete usciti. Capito? Siete usciti. Allora il fondatore si riserva il diritto di non accettare o di espellere coloro che non rispettano queste linee guida che sono il fondamento di una convivenza civilizzata. Capito? Ogni tanto c'è qualche burlone che rompe le scatole e butto fuori. Non accetto che gente così partecipi di un'istituzione di insegnamento così come in fondo qualunque scuola se c'è qualcuno che disturba dice senta esca un attimo perché non se ne può più. quindi io vi devo accettare logicamente ma io accetto tutti per carità però insomma se si violano tutte le linee guida è che voglio accettare. Allora per fare parte basta riempire questo diploma con nome e cognome data di nascita e data di adesione. si accettano solamente maggiorenni poiché si tratta di una scelta in cui si deve essere in grado di ragionare con la propria testa per questo accettano solo i maggiorenni con la propria testa e non influenzati da altre persone come avviene in altre religioni perché non è che il ragazzino che va in chiesa ci va perché lui per la propria scelta per la propria testa per propria decisione diciamo voglio andare nella chiesa cattolica con quella buddista no proprio ci li portano e basta allora il fondatore Maurizio Fedeli pur pagando tasse pesanti almeno per me sono pesanti magari per tanti non sono pesanti ma io non sono ricco per niente allora il fondatore Maurizio Fedeli pur pagando tasse pesanti non accetta donazioni né autorizza nessuno ad accettare donazioni a beneficio di questa istituzione quindi soldi zero scordatevi demandamme i soldi ecco i dati da riempire ecco i dati da riempire da comunicare via email o via whatsapp come ho detto nome cognome data di nascita e data di adesione e comunicate a me quindi mi mettono un email e mandato a me ci sono solo io i vostri dati allora ovviamente si garantisce la privacy non è che mi metta a dire guarda questo è entrato questo fa parte questa è una cosa vostra è una cosa che è tra voi e me insomma ecco se mi ritenete degno di 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 essere un insegnante spirituale perché state aderendo a un insegnamento spirituale ecco insomma niente niente di che allora per aderire a questa istituzione è sufficiente riempire questo modulo e inviarlo a Maurizio Fedeli per cancellarsi da questa istituzione è sufficiente strappare questo modulo che rimane all'interessato o interessata rimane a voi non è che mi ho dato a me rimane a voi quindi finché vi fa piacere lo tenete da qualche parte lo potete pure appendere lì e quando dice no ma a me non mi piace questa cosa strappi e ne sei uscito ecco si fa presente che in questa istituzione è necessario studiare eh sì guarda un po' è necessario studiare non che devi credere e dire filastroche no devi studiare capito studiare allora si fa presente in questa istituzione inizia a studiare è che gli insegnamenti spirituali fanno parte di una cultura scientifica razionale chiamata cultura superista cultura superista o semplicemente superismo no ok io ho fondato il superismo il superismo è questo la conoscenza spirituale è una parte della cultura superista non è tutto è una parte che tra l'altro se la vuoi capire bene devi conosce pure il resto se non si capisce quindi c'è da studiare non è difficile perché io spiego tutto in un modo molto semplice poi prima o poi riuscirà a scrivere un libro e lì magari per molti sarà più facile seguire le cose che ho cercato di spiegare ok spesso le persone mi dicono che gli rimane difficile aderire alla mia religione perché spesso non trovano disponibile nemmeno il formulario da riempire per poter aderire eh sì è vero me l'hanno detto da varie volte in tanti infatti io lo rendo disponibile soltanto ogni tanto ogni tanto adesso per esempio me l'avete chiesto in varie persone e le metto disponibile un'altra volta questo perché io non ho bisogno di persone che aderiscono per fare numero o per fare donazioni come fa la chiesa cattolica che più gente aderisce più sordi pia in cassa capito io non voglio persone che fanno numero io voglio persone che hanno capito perché se non hanno capito che aderiscano a fare eh e una persona che ha capito insiste non è che se ferma la prima volta che dice ah non trovo il diploma se non ha se non gliene frega niente perché non ha capito se ha capito me lo chiede una volta due poi alla fine vabbè mi metto come adesso sto facendo lo metto perché sono le persone che hanno bisogno di capire il vero senso dell'esistenza e la vera strada della vita e della felicità eterna capito non sono io che spingo sta cosa sono le persone che desiderano questa cosa è questa la cosa bella capito è questa la cosa essenziale capito il paradiso esiste ma la strada per raggiungerlo non è fatta di dogmi capito dovunque c'è un dogma c'è una religione trappola quindi poco il cavolo che riesce a un paradiso se entri in queste religioni demenziali sei in mano agli alieni gli dà carta bianca agli alieni con queste religioni demenziali allora il paradiso esiste ma la strada per raggiungerlo non è fatta di dogmi ma di conoscenza per questo non vi chiedo di credere ma di riflettere per capire riflettere con la vostra testa voi dovete riflettere per capire vi amo anzi ci amiamo da sempre e per sempre firmato Maurizio Federi capito quindi io spero di aver risposto alle cose che volevate sapere e se volete inviarmi il diploma mi farà sicuramente piacere ma non è che l'ho messata a fare un favore a me cioè partecipare della scuola spirituale scollegandosi da questa carta bianca che avete dato agli alieni partecipando alle loro religioni uscendo da queste insomma vi potrebbe fare abbastanza bene però lo dovete fare se avete capito se non avete capito quando capirete quando capirete se ve va lo farete ogni tanto lo metto sto diploma non è bisogno che l'abbiamo mandato adesso non è per me per voi la possibilità di uscire da un grosso problema ok certo più siamo a risvegliarci e meglio è ma io non voglio persone che partecipano e tanto per partecipare che non hanno capito niente capito chi ha grosse perplessità e riflettessi ancora e quando avrà capito avrà superato queste perplessità allora mi manda il diploma non me lo mandate se non siete convinti perché non serve a niente voglio dire io non è che voglio far numero a me che me ne frega di far numero a me mi interessa che voi capite però se uno ha delle perplessità perché non ha capito io ho spiegato in tanti modi in tante maniere se non avete visto tutti i miei video che ce posso fare io mica colpa mia andate a vederli vi metterò pure un altro link sotto dove c'è un elenco di tutti i video che ho fatto penso che saranno un migliaio di video ne ho fatti anche di più ma su sto canale ci dovrebbero essere una cosa tipo novecento mille video qualcosa del genere ok vi amo anzi ci amiamo da sempre e per sempre grazie a tutti